Arriva un lacrimogeno! Lacrimogeno! Siamo rimasti cinque! Questo è il caso che rispondiate al fuoco! Siamo rimasti! Sky 5 News sta seguendo in diretta lo scontro a fuoco che sta devastando le Everglades. Stando ai rapporti non è chiara la ragione che sta dietro la sparatoria. Vi aggiorneremo sugli sviluppi di questa vicenda. Agente a terra! Alcuni momenti! Intervento autorizzato! Sparata vista! Un sospetto armato è stato colpito ed Abrams diventa morto. Unità mediche in arrivo. Servono più a loro che a noi. Rinforzi pronti, ma non credo ci servano. I sospetti sono infilati. Sospetto a terra! Continuate a ripulire la zona. Mi hanno bloccato, cazzo! A tutte le unità, continuate a ripulire la zona. Sospetto a terra! Ho avvistato un sospetto. Fischoro! Niente! Pagnoone! No! A tutte le unità, le cose si mettono bene. Rinforzi pronti, ma non credo ci servano. Non credo, non credo, non credo. Non credo, non credo. Non credo, non credo. Avanti! Datemi una mano con questo! Unità mediche in arrivo. Servono più a loro che a noi. A tutte le unità, continuate a ripulire la zona. Il comando vi manda i suoi saluti. Stiamo andando bene. I sospetti sono in preda al panico. Stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Buono! 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 A tutte le unità, le cose si mettono bene. La missione procede come certificato. Beccatemi questa! Non! La strani! Deve è stato! Come! Penso rispetti! I'vosti abbia il rispettivo della misura! I'vosti abbia il rispettivo della squadron, Questo non ha scampo! La missione procede come pianificato. 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 Sa adviser des askores. Caio, riponement. La missione procede come pianificato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.